Siccome l'articolo che abbiamo proposto è abbastanza analitico, ci riportiamo la nostra memoria. Grazie. Grazie mille, anche lei è stato perfettamente nei tempi, mi congratulo. Adesso diamo la parola al dottor Ezio Delfino. Prego dottore, a sette minuti. Grazie, vi ringrazio per l'accoglienza e l'ascolto e vi saluto. La memoria che abbiamo depositato consente di riprendere in maniera dettagliata le nostre considerazioni e le nostre richieste, entro nel merito solo di alcuni punti. Innanzitutto rileviamo positivamente che il decreto regolarizza, dopo anni di precariato, sia i docenti che svolgono lo servizio dello Stato e sia la possibilità per i docenti che svolgono il servizio nelle scuole paritarie di acquisire un'abilitazione che li regolarizzerà in quell'ambito. La modifica inoltre è l'integrazione delle condizioni per il conseguimento dell'abilitazione che sono indicate all'articolo 1 sana la precedente esclusione dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie prevedendo giustamente una prova orale per il conseguimento dell'abilitazione gestita da un'apposita commissione. Quindi rileviamo positivamente il recupero in corner anche dei docenti che attualmente svolgono il servizio nelle scuole paritarie. Quello che vorremmo richiedere è innanzitutto che il concorso straordinario e ordinario per le diverse discipline e la scuola secondaria siano banditi con certezza entro il 2019 come è previsto. Però che ci sia una certezza in questa emanazione del bando e che si tenga conto all'impegno che è sempre stato ribadito dai dispositivi normativi ma mai rispettato della indizione biennale di concorsi ordinari che regolarizzerebbe appunto il sistema. In secondo luogo è necessario mettere mano anche a una programmazione degli accessi al corso di laurea di scienze della formazione primaria al quale è ammesso ogni anno da ormai un decennio un numero di matricole molto inferiore al contingente di maestre statali che vanno in pensione. Quindi c'è un gap di programmazione tra la laurea in scienza di formazione e la necessità di personale docente nelle scuole primarie. Questo è un punto che il decreto non riprende in mano e che ci permettiamo di segnalare stante la situazione critica. Riguardo all'articolo 2,2-3, quello che riguarda i dirigenti tecnici ecco ci permettiamo di segnalare il fatto che nonostante l'assunzione di nuovi 59 dirigenti tecnici più i 50 attuali crea un totale che è ancora altamente inferiore alle 190 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive previste dal DPCM 47 del 2019. occorrerebbe secondo me valutare, chiaramente sono costi, valutare una integrazione in eccesso in aumento del numero di dirigenti tecnici previsti dal decreto soprattutto per finalizzare questo maggior numero di ispettori a disporre di un adeguato numero di personale per la definitiva implementazione di un sistema nazionale di valutazione che stenta anche a partire proprio perché mancano queste figure diciamo di intermedio livello tra le scuole, i dirigenti e l'amministrazione della scuola. Riguardo all'articolo 2,5, quello dei servizi di pulizia ci permettiamo pure, concordando sulla scelta del decreto di stabilizzare queste persone di rilevare che risulterebbe, leggendo le discussioni avvenute nelle commissioni alla Camera risulterebbe che nonostante la previsione di questa assunzione mancherebbero ancora, cioè non tutti i lavoratori attualmente in servizio nelle imprese hanno le caratteristiche previste dal decreto per essere assunti si calcola che ci sia un 40% degli addetti operanti che non rispondono a questi requisiti non solo ma se è vero come è scritto che al primo gennaio del 2020, cioè fra due mesi ci dovrebbe essere un'assunzione immediata di collaboratori scolastici ma nello stesso tempo il decreto prevede una procedura abbastanza complicata di assunzione è probabile che al primo gennaio la maggioranza delle scuole non abbiano questa dotazione organica aggiuntiva la proposta è di ragionare sui tempi di avvio di questo articolo eventualmente pensando a un cambio di impegno per queste persone dal primo di settembre del 2020, cioè di posticipare di qualche mese in modo da consentire la procedura di assunzione e un'assunzione certa intervengo ancora sul punto dell'educazione civica alcuni aspetti li hanno già toccati i miei colleghi delle altre associazioni sull'educazione civica sarebbe auspicabile che nel decreto si inserisse uno stanziamento di risorse è vero che è a costo zero l'avvio dell'educazione civica ma sarebbe necessario uno stanziamento di risorse almeno per finanziare l'attività di formazione dei docenti in materia, vista l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione civica a partire dal primo settembre del prossimo anno e ci andrebbe anche secondo noi nell'articolo 7 un incipit che obblighi il ministero a emanare le linee guida con urgenza perché stiamo aspettando delle linee guida per far partire l'educazione civica avrei concluso, segnalo oltre a quello che troverete nella memoria due ulteriori richieste emendative che mi permettono di rappresentare a nome anche delle associazioni professionali con il prossimo anno scodastico decadono i comandi per il personale assegnato alle associazioni professionali e agli enti specifici quindi abbiamo messo un emendamento come proposta che proroghe di un anno la soppressione dei comandi per le associazioni professionali analogamente la legge 107 aveva previsto un contingente mi pare di circa 700 persone nell'organico di potenziamento a disposizione degli uffici regionali per dei distacchi di personale docente su progetti a carattere regionale o carattere nazionale andrebbe chiarito se questa triennalità che scade quest'anno sarà prorogata, sarà rifinanziata e sarà rimessa in organico altre specifiche le troviamo nella memoria grazie grazie a lei anche lei è rimasto nei tempi siamo stati tutti bravissimi chiedo se ci sono delle domande da parte dei deputati non ci sono domande quindi ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e dichiaro che ho concluso l'audizione grazie di cuore grazie a tutti 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 grazie a tutti